Nemmeno il quarto tentativo è quello giusto per San Nicolò per tornare a riassaporare il gusto della vittoria. Il derby anticipato al sabato contro una mitarnina finisce infatti 1-1. Momento opaco, quello dei biancazzurri, meglio specie nella ripresa la formazione dello squalificato Angelone. Epifani sceglie Dorazio a destra per sostituire lo squalificato Pretara, mentre al centro dell'attacco, al posto di Casolla, va il giovanissimo Di Sante. Al decimo la percussione centrale di Petrone è libera e al sinistro fuori misura di Schiphol, che non inquadra la porta di calore. Ma al San Nicolò è un diesel e ci mette un po' a carburare. E l'occasionissima, al tredicesimo, se la ritrova sul sinistro Massetti. Dopo la sgruppata di Mozzoni, il numero 11 da pochi passi gira verso Schina, un pallone che picchia la parte inferiore della traversa, ma ricade al di qua della linea di porta, strozzando l'urlo in gola dei sostenitori biancazzurri. Al ventisettesimo la discesa di D'Alessandris, col destro debiato, mette i brividi ai parodi di casa, ma è solo un antipasto al vantaggio, sull'altro fronte però, della squadra di Epifani, che arriva solo un minuto dopo, quando Di Sante, pescato in area di rigore da Merlunghi, di Piacos piazza Schina e deposita in fondo al sacco il pallone del vantaggio Teramano. Per Lunghi, al 42esimo avrebbe una buona chance per raddoppiare, ma il destro da piazzato da buona posizione sorvolo alla traversa dell'estremo difensore della Mitterlina. Il secondo tempo è decisamente più piacevole rispetto alla prima frazione. Gli ospiti salgono di livello e il San Nicolò concede campo e metri agli avversari. All'ottavo reclama la Mitterlina per un presunto mani in area di Mozzoni sulla pressione irregolare a giudizio dell'assistente centrone da parte di Torbidone. Ma gli ospiti provano a mettere il naso fuori dal guscio. Al 59esimo, Calore in affanno sul tiro cross di Gizzi, che l'estremo bianca-azzurro tira letteralmente fuori dalla porta, distendendosi alla sua sinistra. Anteprima del gol del pareggio, che arriva al minuto 68. Calore regala il calcio d'angolo alla Mitterlina, che lo sfrutta nel migliore dei modi. Franco Pennella, De Santis perde Marco Tuglio, che prende il tempo a tutte e gira le spalle del portiere del San Nicolò, la rete del pare. A Mitterlina, che avrebbe subito l'occasione del sorpasso, l'ob di Petrone, ma Torbidone sparacchia come peggio non potrebbe un'occasione ghioppa. Partita vibrante, al 72esimo di Paolo, stende Merlonghi lanciato verso schiena e remedia il rosso diretto da parte di Piacenza. A Mitterlina in dieci, Epifani opera un cambio addirittura triplo, fuori di Sante, Brighi e Margherita, dentro De Gidio, Micolucci e Moretti. Sui sviluppi del piazzato, proprio di Micolucci, la palla arriva a Massetti, che colpisce non perfettamente il pallone. Gli ospiti, nonostante siano in inferiorità numerica, però giocano meglio. All'87esimo ancora un corner di Franco, con la sfera che arriva sul destro di Petrone, lato di pochissimo. L'ultimo sussulto al 92esimo lo regala la girata sfiacca di sinistro di Merlonghi, su cui schiena non ha problemi. Un altro passettino, dunque, per la Mitterlina in classifica, dopo l'X di domenica scorsa fra le Muramiche e contro il Chieti. Per il San Nicolò, invece, che sale a quota 23 punti, il momento no, deve ancora passare.